non l'abbiamo letto bene scusa che cosa vuoi? siamo davanti nel dove? siete in piazza? si io chiedo e voi per andate quando non ce ne siamo andati? se non viene quello che cosa? non ce ne siamo andati a camminare mi toglie la mano perché non posso camminare non so non so ma mi toglie la mano perché non posso camminare e le bacia le coperse dovremo andare ancora a me mi noia la confusione io sono agorafobico detesto coralli ciao ciao Non ci hanno mangiato, non ci hanno mangiato.